Solo dolci di mele dalla classica torta, la rosa di mele, crema, mele e pasta a filo e strudel di mele con pasta a filo. Ragazzi, quale scegliete? Io non scego, me ne mangio tutte. È sempre il tempo delle mele, lo so ragazzi, allora prendiamo una bella chilata di mele, le facciamo a dadini, condiamo con zucchero, limone e cannella, uniamo l'uvetta mollata e strizzata, se vi piace, e teniamo da parte. Affettiamo una mela con la buccia, lessiamo per un minuto le mele in acqua bollente acidulata, scoliamo su uno strofinaccio e teniamo da parte. Un pochino di marmellata, quella che preferite, una confezione di pasta a filo. Partiamo dalle rose, spennelliamo con olio di semi un foglio di pasta a filo a metà per il lungo, lo ripieghiamo, spennelliamo ancora una metà, ripieghiamo, spennelliamo adesso con la marmellata. Disponiamo sopra le mele a fette sul bordo in alto della pasta per tutta la lunghezza, ripieghiamo il foglio di pasta e arrotoliamo con delicatezza, attenzione che, vedete, si può spezzare. Mettiamo la rosellina nello stampo da muffin a cuocere a 180 gradi per 25 minuti. Passiamo adesso allo strudel, spennelliamo un foglio di pasta, lo copriamo con un altro foglio e facciamo così con 3-4 strati di pasta. Spennelliamo il centro con la marmellata, sbricioliamo un biscotto sopra la marmellata e versiamo ora le mele condite e chiudiamo lo strudel semplicemente ripiegando i bordi che andiamo a spennellare per farli sigillare bene. E poi a cuocere in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti. Ed è la volta della torta triplo gusto pasta a filo unta e piegata a metà. Qui ci vuole anche la crema pasticcera da preparare, mi raccomando. Bene, ungiamo la pasta a filo a metà, ripieghiamo e facciamo così con 3 fogli in totale, li incrociamo quando li sovrapponiamo e con questi rivestiamo una teglia. Versiamo sopra la crema pasticcera che io ho fatto bella tosta perché serviva così. Poi l'impasto della torta di mele, la classica torta di mele che è l'ultimo preparato che vi faccio vedere. E via cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti, ce li vogliono tutti. E per ultimo la torta classica di mele, la più semplice, la più richiesta sempre, classica. Eccoli qua gli ingredienti, la sapete fare tutti quanti. E poi a cuocere in forno a 180 gradi per 30-40 minuti. Quattro dolci con due ingredienti, pasta a filo e mele. Che ne dite? Vi va di provare a farle anche voi? Non so cosa scegliere, ma direi di partire con lo strudel. Grazie. Grazie.